Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo all'insedimento del nuovo presidente della sezione penale al Tribunale di Gela. Si tratta di Miriam D'Amore, già consigliere della Corte d'Appello di Galtanissetta. Il magistrato va a colmare il vuoto lasciato da Paolo Fiore, divenuto presidente del presidio giudiziario locale. Si è ufficialmente insediato questa mattina al Tribunale di Gela il nuovo presidente della sezione penale. Si tratta di Miriam D'Amore, 53 anni, nativa di Cuneo, già consigliere della Corte d'Appello di Galtanissetta. Il magistrato va a colmare il vuoto lasciato da Paolo Fiore, divenuto presidente del Tribunale. La mia è stata una scelta voluta, anche perché io, forse pochi lo sanno, ma io ho inaugurato il Tribunale di Gela nel 91, perché ricoprivo l'incarico di procuratore proprio della Repubblica, proprio al momento in cui fu istituito il Tribunale di Gela, l'ho ricoperto per circa sei mesi. Per cui ritorno molto volentieri in questa città e spero di restarci e lavorarci a lungo. Io lavoravo alla Corte d'Appello di Galtanissetta, mi sono occupata di tutti i processi più importanti di criminalità organizzata che riguardavano la città di Gela e quindi non è per me una novità questo tipo di lavoro. Al nuovo presidente della sezione penale abbiamo chiesto anche quali sono le differenze fra Gela e Galtanissetta. Qua sono stati fatti moltissimi processi particolarmente importanti, diciamo che è un territorio peraltro molto vivace anche economicamente, quindi in questo sicuramente ci saranno anche problematiche ambientali che per esempio a Caltanissetta mancano. Ai nostri microfoni il presidente del Tribunale Paolo Fiore. L'organico è finalmente completo, è una situazione direi abbastanza eccezionale per il Tribunale di Gela. Io personalmente non mi ricordo una situazione di pieno organico, abbiamo un giudice assente perché è in maternità ma siamo molto contenti, siamo molto contenti poi perché acquisiamo delle persone di grande valore. Dopo un medium d'amore a giorni si insiderà anche il magistrato Lirio Conti che ritorna a Gela. Magistrati di grande esperienza, grande professionalità di cui abbiamo bisogno, di cui hanno bisogno anche i giovani giudici del Tribunale che necessitano di punti di riferimento anziani. È stata rintracciata a Milazzo, in provincia di Messina, la donna gelese di 45 anni della quale non si avevano notizie da alcuni giorni. Irene Vicicchia, che vediamo nella foto, che accusa disturbi psichici, si trova in buone condizioni di salute. Le ricerche erano state avviate dalla polizia a cui si erano rivolti i familiari. Cambiamo argomento ed occupiamoci dell'ennesimo caso di incagliamento che si è verificato al porto rifugio di Gela, vittima questa volta a un'imbarcazione australiana con otto persone a bordo. Ennesimo incagliamento al porto rifugio di Gela a causa dei fondali insabbiati. Sono passati tre giorni da quanto accaduto ad un'imbarcazione battente bandiera francese che l'identico copione si è ripetuto ieri. Vittima una barca a vela di 12 metri australiana con otto persone a bordo, quattro adulti ed altrettanti ragazzi. Sul posto si sono recati gli uomini della guardia costiera e quelli della squadra nautica che hanno trasbordato gli occupanti del natante. Le otto persone hanno trascorso la notte all'otto il sole. Abbiamo chiesto ai nostri consiglieri comunali, al nostro sindaco, al nostro onorevole di venire a vedere quello dello scempio che c'è all'interno del porto. La nostra rabbia, noi che siamo operatori portuali, sempre presenti all'interno del porto. Non ne possiamo più. Siamo al collasso. Chiediamo a questo punto di chiudere letteralmente il porto in modo che non succeda più quello che sta succedendo oggi e che è successo il 15 agosto di qualche giorno fa. Quella barca francese che è entrata e ha avuto i suoi problemi e si è arenata all'interno del porto. Sono passati quasi due mesi dall'ultimo incontro che si è svolto a Palermo in merito agli interventi da realizzare al porto per il dragaggio dei fondali. Siamo al 19 agosto e tutto è rimasto come era. Fiumi di parole, solo parole. Ma si aspetta la tragedia per intervenire definitivamente? Qui il porto di Gelo è diventato una vera e propria trappola per i diportisti. Una trappola a tutti gli effetti. I diportisti poverini quando c'è il mare forte cercano rifugio per poter ripararsi dal vento e dal mare forte entrando in un porto dove ignari trovano una vera e propria trappola. Io mi rivolgo adesso pure alla Capitaneria di Porto che faccia qualcosa, che emetta anche una chiusura totale di questo porto. A questo punto è meglio che sia completamente chiuso, che non limitato e quindi che dia la possibilità a questi poveri cristi, li chiamerei. di arenarsi in questo modo. Non oso neanche immaginare il panico che in questo momento provano quelle persone su quella barca. È una barca che batte bandiera australiana. Gela è sempre nominata per cose brutte, mai per una cosa positiva, sempre cose negative. C'è in tutto il mondo, in tutta Europa. Stiamo parlando dell'Europa, prima la Francia, la Germania e adesso anche l'Australia. Siamo in mezzo proprio non so che cosa e vorrei anche chiedere ai nostri politici ma dove siete? Perché non vi fate vedere? Scendete in piazza solo per i voti? Scendete al porto a vedere che cosa succede qui in mezzo a noi diportisti e quello che sta accadendo? Polizia, forze dell'ordine a rischiare la vita all'imboccatura del porto vicino agli scogli. Venite! Auto in fiamme la scorsa notte in via Varolio, nel quartiere Margia Gela. Poco prima delle tre, il fuoco ha danneggiato una Fiat Punto di proprietà di un pensionato di 60 anni. Indagano i carabinieri. Maxi sequestro di droga nelle campagne dedicata da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, coordinati dal capitano Marco Currao. I militari dell'arma hanno rinvenuto all'interno di una serra agricola di nove campate una piantagione di canapa indica di 3.000 metri quadri. Si trovava in contrada Giacobbe, vicino alla cittadina ricatese. All'interno sono state rinvenute 3.000 piante perfettamente fiorite e in ottimo stato di vegetazione dell'altezza variabile dai 2 ai 5 metri, pronte per essere raccolte. Il valore complessivo della coltivazione supera i 2 milioni di euro. C'è un arresto. Il manette è finito del proprietario del fondo agricolo. Si tratta di Calogero Allegro, 29 anni, di Palma di Montechiaro, disoccupato. L'accusa è di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. La coltivazione è stata scoperta al termine di una intensa attività info-investigativa e in seguito alla perlustrazione aerea effettuata con il supporto del nucleo elicotteri dei carabinieri di Palermo. L'arrestato adesso si trova recluso nel carcere di Agrigento, in attesa dell'udienza di convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Sul posto in cui è stata rinvenuta la piantagione, si sono portati anche i carabinieri del laboratorio analisi sostanze stupefacenti del reparto operativo di Palermo per le analisi qualitative e quantitative delle piante di cannabis indica. Sempre i carabinieri di Licata hanno intensificato i controlli in città. 120 le persone controllate, 91 i veicoli ispezionati, eseguite numerose perquisizioni personali e veicolari finalizzate alla ricerca di armi e droga. Un 33enne è stato denunciato per possesso di 3 grammi di hashish. 39 le contravenzioni al codice della strada per un importo di circa 13.000 euro. Sottoposti a fermo amministrativo di 60 giorni, 8 ciclomotori e motocicli, in quanto i conducenti non indossavano il casco. Sequestrati 5 auto e motoveicoli per mancanza di copertura assicurativa. Ritirate 14 carte di circolazione. Due le persone multate per guida senza patente perché mai conseguita. Proseguono gli appuntamenti con l'estate gelese. Oggi alle 21 per il Gelas Music Fest alla Villa Comunale Garibaldi, Samuele Mammano presenterà il suo primo album Euforia. In Piazza Umberto I si alzerà il sipario sul Cry Summer Festival all'ex Lido Orlando. E' prevista la festa dell'acqua, mentre per gli amanti della musica folk uno spettacolo si terrà nel piazzale antistante, la chiesa Santa Maria di Betlemme. E ora parliamo dei nuovi stalli per i taxi a Gela. Nuovi stalli per le vetture a noleggio con un conducente a Gela. Da ieri il servizio da Corso Vittorio Emanuele è stato collocato nella vicina via Retusa in vista della rivalorizzazione del centro storico. Le automobili saranno poste in fila verso Piazza Umberto I. A tal proposito è stato modificato il senso di marcia in questa direzione. In via Retusa, nel tratto compreso tra via Ventura e via Navarra, qui indivige il senso unico nella parte nord-sud. Di conseguenza il divieto di fermata sarà attivo sul lato orientale della carreggiata. Una strada vicino alla piazza, proprio accanto alla piazza, ma che consente di poter mantenere un servizio pubblico come quello delle auto a noleggio. Sappiamo che a Gela non ci sono taxi, quindi vi ha la possibilità di utilizzare le auto a noleggio con conducente per il servizio pubblico. Spostandoli però dalla piazza principale dove abbiamo intenzione di cominciare a studiare una pavimentazione che sia più confacente alla piazza principale della città. Quindi una sede che credo che possa rispondere alle esigenze dell'amministrazione di avere gli spazi della piazza, che per me la piazza non è soltanto il quadrato del piazzo Umberta, ma anche la parte laterale, la chiesa madre, per poterla dedicare all'isola pedonale per altre motivazioni, ma nello stesso tempo mantenere al centro storico un presidio dove poter prendere tranquillamente un auto a noleggio. Quindi questa è una collocazione che riesca a dare delle risposte sia agli operatori del settore ma sia un servizio alla collettività. Quindi l'inversione di marcia è stata concepita proprio per poter consentire il passaggio di fronte alla piazza. In cambio per un motivo molto semplice perché sarà un andamento più classico dei tassisti, ovvero sia una coda che praticamente si sviluppa lungo la via retusa, il primo taxi a distrutizione che è visibile già dalla piazza può essere preso dall'utenza e man mano scorrere lungo questo asse che si è formato in parallelo alla strada. Si terrà domenica 28 agosto alle 21 alla Rotondessa di Macchitella a Gela il premio nazionale riservato ai cantanti e le onore a lavora e l'iniziativa della associazione Elevision con il patroginio della regione e del comune. Un evento unico in Sicilia, orchestra dal vivo, ospiti nazionali, 20 voci scelte in tutta Italia. La manifestazione sarà presentata da Pamela Olivieri e da Angelo Martini. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, tra le 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale, la libreria Mondatore di Gela in collaborazione con l'assessorato alla cultura in occasione dell'ottavo incontro dei venerdì letterari. Oggi alle 19.30 presso l'Eschilo Lab presenterà il libro L'Oscuro di Orazio Labate. Dialogherà con l'autore, la professoressa Angela Rinsivillo. Le letture sono a cura di Lucilla Anzalone. Concerto del trio Echi Armonici, domenica 21 agosto alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedettine, nell'ambito dell'iniziativa L'Estate Gelese con la musica colta promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione col Comune. Si esibiranno Maria Provenzano, Pianoforte, Angela D'Amato, Flauto e Giuseppe Cumbo, Oboe. La vagina dello sport e il calcio mancano due giorni all'esordio del Gela. Aldino Liotta di Licata, domenica alle 16.00. La formazione Bianca Azzurra in gara unica giocherà contro la San Cataldese in Coppa Italia. Si tratta, come dicevamo, del debutto nella nuova stagione agonistica che vedrà la squadra allenata da Totò Burculeri partecipare al campionato di Serie D che, lo ricordiamo, scatterà domenica 4 settembre. continua oggi la carrellata sui giocatori bianco-azzurri. La maggior parte dei tuoi colleghi intervistati hanno subito detto io ho firmato per il Gela perché si punta ad un campionato di vertice e al Gela non si può dire di no. È l'identica tua idea? Sì, sì, ovviamente come ben sappiamo tutti il Gela è una squadra storica ha militato anche in campionato di Serie B perciò io ho scelto subito Gela perché anche io esco da un campionato giovanile quindi devo fare esperienze e devo crescere e quindi ho detto subito sì. Conoscevi qualcuno dei ragazzi? Conoscevi il tecnico? Oppure per te una nuova famiglia? No, no, una nuova famiglia però ho conosciuto subito Giovanni Martello e mi sono trovato subito bene con lui. Ma il tecnico Burculeri vi fa studare? Eh sì, parecchio. Non avete un attimo di respiro? Sì, sì, però spero saranno ricompensati questi lavori che facciamo, questi sacrifici penso che in campionato saremo un passo avanti agli altri. Anche perché Gela, come dicevamo, merita altri palcoscenici la Serie D è soltanto il punto di partenza. Sì, sì. Spero che quest'anno faremo un bel campionato e dimostreremo quello che siamo perché il Gela merita, come ha detto lei, altri palcoscenici. È chiaro che i nuovi si sono rivolti a te per parlare del Gela tu gelese Doc che hai già visitato la casacca bianca azzurra e cosa hai detto ai nuovi arrivati del Gela Calcio? Che qui è una bellissima piazza e che è normale già sanno qualche squadra del Gela sanno che ha fatto la Serie C comunque gli ho parlato bene anche per la società e tutto. Già si sta formando una nuova, una vera famiglia e anche sono under quindi prendono spunto alle persone più grandi come tipo Bonafini, Nassi che parlano bene. Voi è chiaro che vorreste ripetere il campionato dell'anno scorso non è facile perché il campionato di Serie D non è l'eccellenza però è chiaro che quando si parte col piede giusto poi alla fine i risultati arrivano. Sì, si spera di ricordare le emozioni dell'anno scorso. E regalare una gioia alla città. Sì. E a quei tifosi che vi hanno sempre seguito. Vero, vero. Appuntamento col teatro oggi alle 21.30 all'antidoto di Macchitella a Gela di cena la compagnia teatrale Antidoto in Don Quixote e San Ciu Panza il costo del biglietto, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni.